Cari amici, il Papa Francesco, parlando ai giovani riuniti per partecipare alla 34esima giornata mondiale della gioventù, in Panama, li ha invitati a fare proprio il Sì di Maria al sogno di Dio Padre. Un sogno, ha detto il Papa, che ci unisce, anche se veniamo da culture e popoli diversi, parliamo in lingue diverse, usiamo vestiti diversi. Un sogno, chiamato Gesù, un sogno concreto, che è una persona, che scorre nelle nostre vene, fa trasalire il cuore e lo fa sussultare ogni volta che ascoltiamo amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi, così amatevi anche voi, gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli. Dire sì a questo sogno, ha detto il Papa, allora significa avere il coraggio di lasciarsi purificare dallo Spirito Santo, che ci rende come Maria, influencers di Dio. Capace cioè di aiutare i nostri fratelli e sorelle a incontrare il Signore, che ci rende l'adesso di Dio, capace cioè di far vibrare di amore e di gioia il Panama, l'America, il mondo intero. Cari amici è tutto per adesso, ciao e Dio vi benedica sempre. Grazie. Grazie.